Giorgos Lantimos è tornato alle origini con questo Kind of Kindness che noi siamo andati a vedere in anteprima, in contemporanea con Khan e abbiamo avuto questa grandissima opportunità. Quindi parliamo di questo nuovo film del regista Greco perché questa volta ci ha veramente lasciato di sasso, tornando, come detto, alle origini, alla sua filmografia iniziale che in molti non hanno capito. Doctut, Il Sacrificio del Cervo Sacro o anche The Lobster sono quei film che lasciano un po' basiti quando poi si è approcciato a film più convenzionali e più internazionali come La Favorita e Il Grande Successo di Povere Creature in molti hanno apprezzato quello che fa il regista. Ma come per fare da controaltare alla sua creazione, Lantimos ha deciso di ribaltare i canoni che avevano attualmente accostato alla sua filmografia e tornare a quello che sa fare meglio, ovvero mettere in crisi gli spettatori con pellicole che ti lasciano di sasso e per un momento senza capire cosa si è visto. Questo è il caso di Kind of Kindness, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa Lantimos ci ha voluto raccontare con questo film. Ma prima, sigla! Il regista greco decide di raccontare questo film dividendolo in tre episodi, ognuno dei quali ha gli stessi attori che hanno diversi ruoli. Appunto troviamo Willem Dafoe, Jesse Plemons, Emma Stone, Hong Chao e Margaret Colley che sono stati tutti fantastici. Soprattutto perché hanno dovuto impersonare tre diversi personaggi con diverse caratterizzazioni. Soprattutto Plemons è stato grandioso e è stato uno dei protagonisti del Festival di Cannes, osannato incredibilmente da tutto il pubblico. Questi tre racconti che sembrano completamente differenti tra loro, ma che si uniscono in una linea sottile perché affrontano tutti lo stesso tema, ovvero quello dell'amore, quello dell'amore tossico, quello dell'amore in amicizia, quello dell'amore tra capo e in qualche modo i suoi sudditi, i suoi fedeli. Un amore che qui ci viene sottolineato essere il motore portante di quello che smuove i protagonisti a fare quello che fanno. Proprio è questo che l'antimo ci ha sempre raccontato con i suoi film. Quell'amore che nelle diverse sfumature che lui ci racconta viene messo in scena solo come lui sa fare. Proprio per la sua difficile lettura da parte del grande pubblico mainstream, questo Kinds of Kindness difficilmente raggiungerà i livelli di successo di povere creature e della favorita. Proprio perché è un film che ti spiazza, un film pieno di black humor, di scene tragicomiche che non dovrebbero far ridere, ma soprattutto di scene che ti lasciano scioccato e ti lasciano senza parole. Sarà una difficile recensione, soprattutto per evitare di fare spoiler che farò più avanti, per andare più nello specifico di questi tre particolari mini film, se possiamo dire così, perché ognuno ha un suo significato e cercherò di spiegarli, perlomeno quella è stata poi la mia interpretazione delle diverse storie raccontate. Quindi poi, chi l'ha visto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Kinds of Kindness e se siete poi d'accordo con me nel leggere questo tipo di risoluzione della trama. Forse è proprio questo uno dei punti più deboli del film di Lantimos, ovvero la decisione di dividere queste tre storie in tre mini racconti, perché tutti e tre hanno delle grandissime possibilità di ampliamento della storia, soprattutto il secondo film poteva essere un grande lungometraggio che ci avrebbe ancora lasciati più spiazzati, soprattutto perché lascia aperto poi quello che è il finale della storia. E questo non l'ho apprezzato moltissimo. Se c'è qualcosa che ci ha insegnato nel corso degli anni Lantimos è che sa raccontare bene le storie, anche se molto contorte e particolari. Ragazzi, ora vorrei fare un po' di spoiler per andare più nello specifico nei racconti che ci portano ad addentrarci in quello che è il film. Quindi per evitare di rovinare la visione a chi non l'ha visto, io vado con gli spoiler, siete avvisati. Allora, abbiamo detto che sono tre diversi racconti. Il primo racconto è la morte di RMF, RMF puntato, questo personaggio che poi, come scopriremo, appare in tutti e tre i racconti. Nel primo troviamo Willem Dafoe, che è questo capo dell'azienda che decide ogni aspetto della sua vita, dei suoi dipendenti, in particolare di Robert, Jesse Plemons che ha gli ordini di Willem Dafoe. Un Plemons che qui è sposato con Hong Chao e quindi vivono questa vita a quanto pare perfetta. Vita che però decide nei minimi dettagli appunto Willem Dafoe. Che interpreta, Willem Dafoe che interpreta Raymond. Un Raymond che tutte le mattine lascia a Robert le indicazioni della giornata su come comportarsi a casa, quando fare sesso con la moglie, a che ora, quante volte, cosa mangiare, come vestirsi, se fare bambini o meno. Tutto controllato e perfettamente deciso da Raymond per avere il controllo pieno della vita dei suoi operai, dei suoi lavoratori. Una ditta che non capiamo bene cosa faccia, ma quando Raymond supera il limite chiedendo a Robert di creare questo incidente fittizio con RMF che decide di voler morire e Robert all'inizio lo fa andando addosso ad RMF procurandogli ferite gravi ma non uccidendolo. Quando l'uomo si rimette perché lui è desideroso di morire, Raymond chiede nuovamente a Robert di fare questo nuovo incidente per ucciderlo, quindi schiantarsi ancora più velocemente rischiando di conseguenza la vita. Robert decide di ribellarsi e non ci sta. Questa volta non ci sta perché non vuole che anche questo aspetto della sua vita venga controllato da Raymond. Decide quindi di rivelare tutto alla moglie Hong Chao che di conseguenza quando scopre la verità sulla gravidanza perché Raymond aveva ordinato a Robert di non avere figli quindi Robert aveva drogato la moglie di proposito per evitare che lei rimanesse incinta se ne va di casa abbandonando Robert. Di conseguenza alla risposta negativa dell'uomo di creare un nuovo incidente Raymond sparisce e lo licenzia augurando comunque buona fortuna a Raymond. Questo provoca gravi danni nella vita di Robert che crolla completamente andando in panico andando in pezzi i doni che vengono fatti da Raymond a Robert vengono sottratti all'uomo quindi anche la racchetta da tennis di McEnroe che aveva donato Raymond all'uomo viene tolta di casa proprio per il rifiuto di quest'ultimo e nonostante tutto lui non cede e decide comunque di non creare questo incidente. Un giorno deciso a tornare alla vita di prima sui suoi passi va da Robert in ufficio e continua a stalkerarlo comincia a stalkerarlo e tutti i giorni lo insegue fino a che si ubriaca e conosce il personaggio di Emma Stone un Emma Stone che insomma conosce Robert decide di frequentarsi quando un giorno devono uscire lei non si presenta chiamandolo dicendo che ha avuto un incidente quando lui va a trovarla in ospedale nota dei dettagli che gli fanno capire che la donna con cui sta uscendo lavora per Raymond il quale gli aveva ordinato di fare questo incidente questo incidente contro di nuovo contro RMF a differenza di Robert la ragazza ne fa ben due perché la prima volta come è successo con Robert non riesce ad uccidere l'uomo la seconda lo manda in coma e lei ne esce gravemente ferita quindi rimane all'ospedale quando lui intuisce questa cosa e capisce che lei è controllata in ogni aspetto anche con l'uscita di anche nell'uscita con Robert l'uomo perde completamente la testa e si presenta in ospedale rapendo RMF e facendosi per un infermiere buttandolo fuori quindi dall'ospedale in questo piazzale gigantesco lo mette in strada con la sede di rotelle e lo investe due o tre volte per ucciderlo definitivamente quando capisce che quello che ha fatto corre a casa dell'uomo e rivela e insomma capisce che e rivela di aver ucciso RMF Raymond contento di quello che ha fatto lo accoglie a braccia aperte e alla fine lo perdona facendo tornare alla normalità Robert e la sua vita non capiamo poi se effettivamente la moglie di Robert e tutto quello che era di Robert tornerà alla normalità ma è evidente come questo sia indicativo di un controllo tossico e completo sulla vita di Robert da parte di Raymond un'altra perfetta sintesi di quanto il controllo della vita delle persone dipenda moltissimo dall'affetto che il 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 personaggio di Raymond di Will and the Foe ha su su Robert su questo Jesse Plemons completamente in parte qui perché capiamo come il suo comportamento dipenda troppo da come il da come Raymond controlli la sua vita facendola cadere in pezzi non riuscendo a fare a meno di quella che era la sua vita la moglie infatti on ciao prima di andarsene dice di ripartire insieme senza far senza contare Raymond abbandonando quella che era la sua vita precedente ma lui non riesce perché non può fare a meno di Raymond e del controllo esasperato che ha Raymond su Robert quindi quando torna alla villa per confessare l'omicidio di RMF è contento della sua scelta e di essere tornato sui suoi passi perché questo affetto morboso che lui ha per Raymond e al suo controllo lo rende schiavo in qualche modo ma quello schiavo che non si rende conto di essere controllato dal suo controllore una una metafora particolare dell'amore morboso che Raymond ha verso Robert perché ci tiene a tal punto da voler controllare ogni aspetto della sua vita per evitare che lui se ne vada completamente quindi questo è il primo episodio come al solito un l'antimos che ci lascia di stucco quando vedi Plemons entrare in ospitale e rapire il tutto in pochissimi secondi RMF gettarlo in strada e investirlo due o tre volte e rimani di sasso perché non capisci cosa cavolo sta succedendo questo episodio appunto ci racconta la rappresentazione perfetta dell'annichilimento di una persona da parte del capo come fanno i capi di una setta che annichiliscono completamente il carattere degli adepti avendo il controllo pieno sulle loro vite talmente tanto da non da riuscire a soggiocarli completamente e facendo credere a loro di non poter fare a meno di questo controllo è una mini storia che avrei voluto sinceramente vedere più di più avrei voluto vedere di più quanto poteva essere ancora più schiavo del comportamento di Raymond Robert e cos'altro poteva chiedere Raymond a Robert per accentuare questo controllo che lui aveva verso l'uomo è un peccato che l'antimos abbia deciso di raccontare lo ripeto nuovamente queste storie in breve perché avevano del grandissimo potenziale passiamo ora alla seconda storia ovvero RMF sta volando in questo secondo racconto ritroviamo nuovamente Jesse Plemons protagonista che perde sua capiamo che perde sua moglie in una missione quanto capiamo dovrebbe essere una microbiologa in una spedizione con un suo collega quindi lei viene è scomparsa e c'è una scena in particolare che mi ha tolto quel sorriso un po' magabro perché dal nulla non ti aspetti cosa accade e vediamo Plemons che lui va il poliziotto come ha detto va a casa di questo suo collega con la moglie quando lo vedono triste per la scomparsa della moglie e ancora non viene ritrovata gli prega di fargli vedere un filmato di sua moglie perché insomma gli manca tantissimo e il suo amico di contro gli dice ma vediamo delle foto sono molte non mettiamo il filmato magari ti potrebbe far male all'insistenza incessante dell'uomo la coppia acconsente quando capiamo che di che video si tratta rimaniamo di sasso perché sfugge quella risata perché i quattro la moglie Liz interpretata Emma Stone compresa sono scambisti quindi il video che noi vediamo è un video porno mentre loro fanno sesso a quattro in questo particolare video amatoriale e rimani senza parole pensi ok quindi ancora una volta l'Antimos ci ci sorprende usa appunto queste scene per sottolineare quanto l'amore in tutte le sue forme sia particolare nei suoi racconti proseguendo nel racconto capiamo che la donna torna a casa perché viene ritrovata però c'è qualcosa che non va e Plemons sembra dubitare che la moglie sia la donna che lui conosce in quanto cambia i gusti odia il cioccolato e quando ha fame lui dice ok c'è solo una torta al cioccolato ah sì perfetto lei la divora in 4 e 4 8 ha i piedi più grandi quindi non rientra il numero di scarpe che solitamente la moglie indossava non rientra nei suoi piedi ha voglie a letto particolari tanto è vero che confidando alla sua collega interpretata a Hong Chao la voglia di fare l'amore di sua moglie colpendolo con un frustino lui rimane di sasso perché dice lei non l'avrebbe mai fatto e quindi inizia a dubitare della moglie che effettivamente sia lei questi indizi portano Daniel a mettere la moglie alla prova e cercare di capire se lo stia ingannando o meno quindi quando sottolinea la voglia di avere un languorino e avere una strana voglia da mangiare le chiede se può cucinargli un dito e anche lei non capisci cosa sta per accadere fino a che non arriva quando capiamo che Liz acconsente a cucinargli un dito vediamo perfettamente con questa inquadratura sul dito con una mannaia che taglia il dito e lei con la più grande disinvoltura del mondo lo condisci in padella con un po' di verdurina a fianco sale e peve servendogli uno al piatto capisci quanto è disturbato l'antimos e quanto possa avere le potenzialità questo episodio di far rimanere di sasso il pubblico quindi una volta servito il dito lui non riesce ancora a capire se effettivamente sia la moglie perché vediamo lei che è preoccupata effettivamente per lui perché non mangia perché si comporta in modo strano e qui non riusciamo bene a comprendere il comportamento di del personaggio di Plemons proprio perché è completamente folle in questo momento e anche al lavoro in una facendo il poliziotto interviene durante una resta tra alcuni gizzi e taglia il dito a uno di loro sparandogli accidentalmente sulla mano in confusione estrema e la donna appunto Liz si preoccupa moltissimo per il marito perché ci tiene tanto allora cerca in tutti i modi di accontentarlo dal lavoro viene sospeso perché capiscono che la sua salute mentale non è completamente quella che dovrebbe avere un poliziotto dopo l'accaduto e ancora dopo diversi avvenimenti strani Daniel va nuovamente da Liz sottolineando che ha molta fame è molto affamato è un languorino particolare questa volta ha una grandissima voglia di fegato lì per lì non capisci cosa sta per arrivare fino a quando non arriva e quando alcune scene dopo arriviamo in casa di Liz e Daniel vediamo la donna sanguinante sulla poltrona che si è smembrata per togliersi il fegato per cucinarlo ma ovviamente cucinando il fegato togliendosi il fegato e muorendo dissanguata non poteva cucinarglielo quando lui scende e capisce che la moglie è morta ha una faccia sollevatissima sentiamo suonare il campanello e arriva la vera Liz una nuova donna che è uguale in tutto e per tutto alla moglie appena morta e lì non capisci fino a che non hai la rivelazione ovvero cioè io l'ho letta in questo modo secondo me il motivo per cui lui vedeva la moglie completamente differente e con le esigenze di qualsiasi tipo cambiate e anche le voglie e gli atteggiamenti è perché lei era incinta essendo incinta le si gonfiavano i piedi cambiano i gusti cose che magari possono dare fastidio adesso le piacciono cose che prima le piacevano adesso non le piacciono ed anche ha letto gli ormoni sono a 2000 quando si è incinte e cambiano anche le voglie tra le lenzuola e questo lui non l'aveva collegato e la rappresentazione della donna che arriva che è sempre Emma Stone sempre Liz è la follia finale dell'uomo che non capisce che la moglie è incinta e fa di tutto per alla fine ucciderla in qualche modo facendola suicidare è la visione finale di quello che lui avrebbe voluto vedere la sua vera moglie in qualche modo forse perché non accetta che lei è incinta ma non di lui perché quando fai uno più uno e non ci viene specificato nella precisione ma lei si è persa tanto tempo in in quest'isola in questo luogo che vediamo in alcuni flash come racconta la donna non capiamo dove è stata ma vediamo un mondo alternativo con i cani che mangiano guidano la follia allo stato puro di Lantimos ben rappresentata in questo episodio la follia finale appunto di Plemons è che lui non accetta totalmente che la donna è rimasta incinta di un altro uomo e quindi quella che vediamo entrare in casa è la rappresentazione immaginaria di sua moglie come l'aveva lasciata prima che partisse e si perdesse in questa missione un secondo episodio folle che però rappresenta la perfezione anche qui quell'amore incondizionato verso una persona che poi non riesci non si riesce a cambiare quando la persona che hai accanto cambia non riesce ad accettare il cambiamento che hai avuto non per causa tua nonostante tu la amassi con tutto il cuore quindi quest'amore nuovamente che torna verso l'is verso una donna che viene ritrovata ma secondo gli occhi di Daniel non è la stessa arriviamo infine al terzo episodio quello che probabilmente è il più folle voi di te se questo è quello più folle quelli precedenti cos'erano esatto perché è quello più ultraterreno dei tre racconti messi in scena da Lantimos e che racchiude diversi punti di lettura proprio perché il regista non si è fatto mancare niente in questo kind of kindness partiamo nuovamente con i personaggi di Emma Stone e Jesse Clemons che per l'occasione interpretano Emily ed Andrew due una coppia che apparentemente è alla ricerca di una determinata donna una donna che può resuscitare i morti i morti una donna che deve essere perfetta deve essere pulita deve essere intoccata deve essere semplicemente unica qui durante quello che capiamo essere un mondo in cui loro due fanno parte di una setta lo scopriamo successivamente e vediamo capiamo soltanto che la donna interpretata dalla Stone Emily ha una figlia e un marito e ogni tanto va a casa e battezza la stanza della figlia con quest'acqua che si portano sempre dietro durante alcune scene infatti vediamo che loro bevono soltanto quest'acqua questi boccioli d'acqua che si portano in macchina e riempono le borracce una prima parte che essenzialmente è questo e dici ok capiamo che loro sono alla ricerca di una determinata persona quando alcune scene dopo arrivano in questa villa in questo millone gigantesco dove troviamo Will and the Foe che è nuovamente un capo questa volta di una vera e propria setta di adepti con rituali religiosi lui va a letto con tutti uomini donne tocca prima a Emily quando ritornano a casa poi tocca ad Andrew e a turno ognuno quando esce per una missione ritorna e va a letto con Omi questo personaggio particolarissimo che è un po' il capomastro di questa setta e il controllo insieme a Don Chao di tutte le situazioni che avvengono lì sono loro i mandanti di Emily ed Andrew che devono cercare appunto questa particolare donna questo perché loro cercano la perfezione e infatti hanno un particolare rito durante il quale se si ha dei dubbi verso un membro della setta lo si rinchiude in questa sauna al massimo del calore fino a che non sviene e sudando al limite dell'impossibile si buttano fuori tutti i scori tutte le scorie presenti presenti nel corpo e Don Chao lecca il corpo sudato di questa persona e se la persona è pura viene comunque lasciata nella setta e non viene espulsa al contrario viene espulsa e lasciata a se stessa un po' come delle sette che se non si seguono delle regole le persone vengono espulse sussegue poi un rituale particolarissimo in questa bacinella d'acqua Will and the foe e Don Chao piangono queste lacrime di gioia di tristezza e l'acqua viene un po' come battezzata santificata da questo santone che è Omi e ognuno attorno i membri della setta riempono queste borracce per portarsene in giro e possono bere solo quell'acqua ok quando durante le diverse ricerche per questa donna Emily si imbatte l'ex marito perché le manca la figlia e l'uomo la invita a casa gli due rimangono però viene inviannata dall'uomo che perché le manca moltissimo e viene drogata l'uomo la stupra e anche lei rimane disastro perché dici ok va bene e dopo un paio di cocktail e non non riesci a immaginare cosa potesse accadere perché lì per lì dice ok a lei le manca la figlia e il marito quindi decide in qualche modo di tornare ed abbandonare la setta perché l'uomo la induce a rimanere con l'inganno poi appunto come detto la sevizia quando torna in lacrime dal dal padre questo santone che è un uomo insieme ad Andrew perché Andrew se la canta e va ad avvisare gli altri membri che vengono poi a recuperarla le fanno la prova della della sauna e lei risulta intossicata da questa purezza che loro hanno come degna di nota e quando a un ciao la lecca appunto sente che c'è qualcosa che non va e Emily viene espulsa consegnando dei soldi le vengono consegnati dei soldi e decide da sola di proseguire la ricerca di questa persona che è in grado di risuscitare gli morti qui arriviamo all'estremizzazione della follia di questo terzo episodio che scusate non ve l'avevo detto ma si chiama RMF it's a sandwich quindi RMF mangia un sandwich quando appunto Emily viene espulsa lei decide di proseguire la ricerca da sola e si imbatte in una ragazza che le confessa di avere una sorella gemella che è al contrario di lei è molto pura molto casta e molto ligia al dovere e fa la veterinaria per avvicinarla vediamo in una scena che dura qualche minuto con Emily che cerca un cane e va in giro con un guinzaglio e pensi lì per lì se ti è riperso una scena in particolare ma effettivamente lei trova questo randaggio lo ferisce con un coltello e lo porta dalla veterinaria che è questa ragazza che cura l'animale e Emily capisce che potrebbe essere la donna fatta che potrebbe essere la donna che lei sta cercando perché ha delle misure perfette le chiede alcune cose che racchiudono i parametri che lei sta cercando e la droga la fa svenire e la porta in questo obitorio dove troviamo il cadavere RMF che è quello che è stato poi ucciso da Jesse Plemons nel primo episodio e la costringe a fare questo rituale dicendo queste determinate parole per far risuscitare l'uomo al terzo tentativo il personaggio di Margaret Qualley riesce nell'impresa e l'uomo apre gli occhi quando capisce che è la donna che sta cercando capisce anche che può recuperare la fiducia di Ami e rientrare nella setta nonostante il controllo allo sfinimento della sua vita Emily comunque vuole rientrare all'interno e porta con sé a tutta birra la donna la ragazza che vuole consegnare alla setta durante il percorso però la fretta e la corsa con la sua macchina ha un incidente nel quale muore Margaret Qualley Emily rimane con un pugno di sabbia in mano e prova a rientrare nella setta dice che ho trovato la donna però purtroppo è morta ma viene comunque allontanata e rimanendo senza niente e senza un posto dove andare in una scena finale del film vediamo RMF dopo insomma una scena nella fine che mangia un sandwich dopo essersi risvegliato un terzo capitolo che è molto particolare ma che rappresenta un po' come il primo quell'amore tossico quel legame che ci lega anche se consapevoli che non va bene essere in quel posto quindi l'amore il sentimento l'affetto che Emily prova verso Ami verso questo santone che comunque la costringe e la circuisce in tutti i modi costringendola a bere anche le sue lacrime e solo e soltanto quelle altrimenti si viene espulsi da questa setta da questo cerchio ristretto l'esempio perfetto di un'altra sfumatura d'amore che l'Antimos ci ha regalato in questo Kinds of Kindness tutti i racconti hanno questo filo conduttore questo fil rouge che li lega indirettamente il primo e il terzo soprattutto sono poi collegati da RMF che muore nel primo e resuscita nel terzo quindi in qualche modo è un film completo che anche se diviso in tre racconti sono legati da questo modo particolare certamente è uno dei lavori più ricercati di l'Antimos che probabilmente per bilanciare dopo essere stato accusato di essersi occidentalizzato di essersi unito a quel filone di film troppo commerciali ed aver abbandonato la sua poetica ha deciso di mostrare il dito medio a tutti e mettere in scena questo film che seriamente è disturbatissimo e molto molto particolare una pellicola che è stata girata in due mesi e col ritorno al suo sceneggiatore storico Eftimos Filippo che l'Antimos è riuscito nuovamente a tornare il regista che conoscevamo ed è ovvio come sia molto particolare e non a tutti piacerà soprattutto per la decisione di raccontare questo film in tre diversi tronconi ripeto non l'accetto perché si poteva fare meglio si poteva mettere in scena un film diverso per ogni racconto ma anche così rimane un film clamoroso che io ho amato come ho amato ogni singolo film di Lantimos che difficilmente mi fa rimanere deluso ecco ragazzi ho provato a cercare di spiegare questa è la mia lettura personale di Kinds of Kindness se l'avete visto volete parlarne e commentarlo insieme trovate tutto in descrizione qui sotto nella sezione commenti del video o seguiteci alle nostre pagine su Facebook Instagram e Youtube su Ciacchiazione io sono Valerio Perrone buona serata e andate a vedere Kinds of Kindness se ancora non l'avete fatto e siete qui solo per curiosità perché ne vale la pena un abbraccio a tutti ancora una volta ciao